Cari amici, oggi farò un cesto di pane dove potete mettere i vostri biscottini, il vostro pane e adesso vi do le dosi della ricetta. Allora, per fare il vostro cesto di pane occorre un chilo di semola rimacinata di cano duro, 150 ml di aceto bianco, 300 ml di acqua, 20 g di sale e 2 uova. Potete usare anche la semola di rimacinata anche se è scaduta perché per tanto non è commestibile, è solo per appoggiare il vostro pane, le patatine, quello che volete voi. Dopo aver preparato l'impasto, lo ricopriamo con pellico e lo facciamo riposare per un'ora in frigorifero, dopodiché stendiamo l'impasto e ricaviamo delle foglioline, prendiamo una bulla adatta per il forno o quello che volete voi e lo buttate bene bene. Adagiamo le foglioline o le fiorelline, come volete voi potete fare, con dell'acqua e adagiamo pressandole bene bene e poi li mettiamo in forno. Dopodiché lo mettiamo in forno a 180 gradi per 50 minuti e poi lo lasciamo raffreddare dentro il forno e vengono delle pirofole bellissime, ve li consiglio. Ciao Michi! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.